La migliorare c'è sempre, noi quando abbiamo vinto queste partite abbiamo sempre valutato le cose negative che abbiamo fatto, io poi valuto sempre dal punto di vista di squadra, non mi concentro su me stesso, abbiamo avuto buoni risultati, però è chiaro che anche in quei buoni risultati ci sono degli errori che il governatore stiamo cercando di risolvere, dobbiamo risolvere quelle cose in partita.